oggi su recensione smart ho un sorriso a 64 denti si può dire erano 32 ma quest'auto mi fa fare miracoli perché per chi non l'avesse ancora riconosciuta lei è la migliore auto recensita nel 2022 per me ed io e io di auto ne ho provate davvero tante ma veramente come questa nessuna ed è per questo motivo che ho chiesto di riaverla in test per raccontarvela bene in 24 ore ogni pregio e ogni difetto insomma abbiamo capito di che macchina stiamo parlando la ford mustang mac e un'auto completamente elettrica già vi vedo vi vedo che state storcendo il naso perché nel collettivo nella mente la ford mustang è un'auto rumorosa con tanti cavalli un bel v8 però ma quello era il passato adesso dobbiamo pensare al futuro ed è anche per questo motivo per cui ford entro il 2030 vuole vendere solo auto elettriche e poi soprattutto nel 2035 ciao ciao motori termici ford mustang è partita davvero alla grande la loro prima auto elettrica l'hanno fatta davvero molto bene e adesso andremo a scoprirla e se possiamo farlo ringraziamo il concessionario interauto monza meleniano liscate del quale in descrizione troverete tutte le informazioni ma andiamo ma direi di partire a parlare del punto forte di quest'auto perché forse non abbiamo ancora detto ma è un suv e quindi un mustang il suv forse è veramente assurdo proprio uno simoro ma credetevi che è un punto forte perché oltre alla guidabilità del quale parleremo dopo l'estetica è veramente tanta tanta roba tanti dettagli ad esempio anche sul faro c'è il cavallino mustang e quindi vi fa capire che quest'auto è curata minimamente e soprattutto essendoci in varie versioni è un po per tutti insomma per chi vuole fare tanti chilometri per chi magari vuole solamente divertirsi oppure come la versione gt che fa 0 100 in soli 3 secondi e 7 è per chi proprio vuole tanto tanto divertirsi soprattutto la vedete là in fondo la rotonda ecco con un'auto trazione posteriore e per chi veramente la sa guidare può essere veramente tanto tanto divertente che poi probabilmente non mi crederete neanche ma ve lo giuro quando passate in piazza in un posto affollato con lei tutti si girano ma non sto scherzando e mentre vi vado a mostrare gli interni vi giuro che molte persone che sono salite a bordo non capivano come si aprisse la portiera vi dico che sono veramente di tanta qualità alta non hanno proprio l'idea di un premium e anche il bel schermo lì da 15,5 pollici è tanta tanta roba forse un po più fastidioso per chi magari è alto e quindi ad esempio si siede e avendo le ginocchia qua potrebbe andare a sbatterci ma io sono un metro e settanta quindi nessun problema secondo me si ha questo problema sopra al metro e 90 comunque vi fa vedere che è bello perché comunque ci sono le cuciture sono comodi sono surriscaldati sono riscaldati c'è tanta qualità e soprattutto ho provato a portare a bordo qualche amico un po scettico perché mi diceva si fede bella la mustang belli gli interni bella anche l'abbidabilità perché comunque dietro si sta veramente comodi anche in 5 il tunnel centrale praticamente inesistente e insomma continuava a dirmi sì bella puoi convincermi quanto vuoi ma per me la mustang rimarrà per sempre nel cuore come motore termico d'accordo nessun problema però ragazzi dopo che l'ho fatto salire e l'ho portato un po a spasso ha cambiato leggermente idea perché la guidabilità è veramente un punto molto forte ma ora ve la racconto posizione di guida bella rialzata ma allo stesso tempo comunque si riesce bene a fare una curva velocemente perché ci sentiamo ben piantati a terra buche assolutamente zero si sentono veramente poco e poi la cosa più bella è che comunque mettete antamed in un attimo entriamo in sport e come vedete anche il mio cameraman è andato indietro e subito prende velocità in un attimo attacca bene proprio al sedile e quindi è veramente divertente due anime anima tranquilla la città oppure anima un po più sportiva ed è una cosa molto bella per un SUV perché non ce lo si aspetta ma la cosa importante è che mi piace tantissimo la frenata one pedal cioè praticamente il freno non lo tocco quasi mai lascio l'acceleratore la macchina va a frenare in automatico e soprattutto lo stacco tra frenata rigenerativa e meccanica non esiste cioè io non lo sento quindi davvero ottimo lavoro e anche gli spazi di frenata sono super super ristretti con zero beccheggio quindi veramente ford sui freni accelerazioni sensazioni di guida e tenuta 10 10 comunque è anche abbastanza studiata bene perché comunque qui davanti c'è un vanno da 100 litri per ad esempio mettere dentro i cavi e quindi dietro avete tanto spazio a disposizione stiamo parlando di 400 litri forse non sono tanti per un SUV però una volta abbottuti i sedili andremo a vedere all'incirca oltre i 1.400 quindi è un'auto davvero tanto versatile ad esempio se prendete la extended range da 600 chilometri di autonomia è ancora più interessante e potrete viaggiare la cosa bella è che comunque dal navigatore anche dall'app potrete studiarvi un po il percorso e soprattutto vi dice arriverete tra 8 ore e 33 minuti a roma ma perché per il semplice fatto che vi dovrete fermare un po di un paio di volte per ricaricare e quale posto migliore se non al ford charging point per parlarvi della ricarica in corrente alternata fino a 11 kilowatt mentre in corrente continua fino a 115 quindi nella fast e ve la porterà all'incirca dallo 0 all'80 per cento in 40 minuti ovviamente possiamo anche ricaricarla da casa ma i tempi si allungano davvero tanto perché con la presa da 2 kilowatt ci si mette davvero molto molto tempo una cosa che secondo me funziona davvero bene sono le telecamere guardate con questo schermo gigante lavorano veramente bene poi voi potete zoomare dire voglio vedere meglio quella di destra e quindi ve la fa vedere oppure voglio vedere bene la parte davanti la parte anteriore soltanto la parte posteriore c'è la qualità anche di sera è veramente ottima un altro piccolo difetto che avevo segnalato anche nella recensione completa che troverete fissata nel primo commento sono queste piccole resistenze del vetro che servono per sbrinare velocemente ma di sera contro luce così via danno un po fastidio e questa cosa la ritroverete su tutte le ford e nelle 24 ore succede anche questo praticamente sono fermo in parcheggio e a un certo punto un signore con un altro è passato dietro all'auto e fa guarda una mustang e lui risponde una mustang si avvicinano e dice oh davvero una mustang ma è un SUV e poi l'altro dice oh è proprio bella sì è bella è una mustang forse non sanno che è elettrica però è una mustang bella e soprattutto divertente da guidare quindi ve l'ho detto che si faceva notare se c'è una cosa che mi è piaciuta moltissimo è la gestione degli adas questo perché alla frenata d'emergenza assistita il line assist il cruise control adattivo e funzionano tutti davvero bene questo perché quando andremo ad avviare l'auto come potete vedere abbiamo delle lineette quelle sarebbero line assist che potrebbero comunque essere rimosse ma vi dico che funziona molto bene e soprattutto anche la parte del cruise control adattivo riesce bene a tenere a distanza l'auto davanti a noi tenere l'auto dritta e soprattutto a frenare senza dare colpi troppo bruschi vedere una cosa che secondo me è assolutamente interessante se cliccate su energia viaggio vi farà vedere una specie di trip ma aggiornato per farvi capire dove è finita la vostra energia ovviamente possiamo averne tre quindi gli ultimi due che sono due trip e poi questo qui che ci dice negli ultimi chilometri come abbiamo guidato io ho percorso circa 11,4 chilometri il tempo è relativo adesso si è riaggiornato perché ho spento la macchina 21 kilowatt ora ogni 100 chilometri soprattutto mi dice dove è finita il 38 per cento di climatizzazione il 46 per cento di guida un 4 per cento di accessori e il 12 per cento di temperatura esterna conci del fatto che l'autonomia viene influenzata da diversi fattori tra cui il clima il climatizzatore come la guidiamo e così via andiamo a parlare di un'autonomia reale e verificata vi posso dire che i chilometri dichiarati sono all'incirca 450 ma effettivamente non ci arriveremo questo perché se la guidiamo in maniera tanto sportiva andando spesso a metterla sotto sforzo andando tanto in autostrada quindi a velocità un po più sostenute andremo a percorrere all'incirca tra i 260 e 280 chilometri se invece in un ciclo misto accelerate ma non troppo vi divertite in maniera contenuta all'incirca 340 guardate che bella l'auto di sera con il piccolo cavallino mustang che ci dà il benvenuto e soprattutto nella colorazione nera con il buio questi fari full led che fanno veramente tanta tanta luce la rende veramente tanto sportiva e soprattutto non ve ne ho parlato anche le varie luci che sono dinamiche ad esempio se chiudo l'auto vedete appaiono le frecce come potete vedere ho una piccola lacrimuccia perché la sto riconsegnando ma ne approfitto per parlarvi dei prezzi ovvero perché la versione standard range parte all'incirca dai 59 mila euro oppure con il noleggio di interauto ovvero il concessionario che ce l'ha prestata potreste vedere vi lascio il link in descrizione con tutte le varie informazioni potreste avere lei la standard range a 599 euro al mese con anticipo di 8100 euro e poi ad esempio all'interno avrete compresi l'assicurazione e alcuni vari interventi di manutenzione e così via comunque una spesa in meno da sostenere che comunque abbiamo dentro al noleggio oppure se vogliamo fare qualche chilometro in più esiste anche la extended range anziché 599 al mese 699 io onestamente andrei per la extended così non abbiamo nessun problema sull'autonomia e come potete vedere l'ho anche messa in carica così almeno siamo pronti magari in un futuro a poterla ritestare detto ciò io sono il vostro lomeo federico spero che il video vi sia piaciuto invito a lasciare un bel like un commento fatemi sapere se vi è piaciuta lei se c'è qualcosa che non vi ha convinto oppure se c'è qualcosa che vi ha convinto ringrazio nuovamente il concessionario interauto in descrizione tutte le loro informazioni io sono il vostro lomeo federico e vi auguro una buona giornata e al prossimo video ciao